Vi auguro una buona giornata. Il messaggio di oggi è legge dell'attrazione. Ogni pensiero è un investimento che dà frutti immediati. Perciò investi con saggezza. Hai il potere di scegliere i tuoi pensieri e allinearli all'amore, alla pace e all'armonia. A tua richiesta saremo felici di sintonizzare le tue energie sulle frequenze più elevate. Inviandoti questa carta, gli angeli ti ricordano che la legge dell'attrazione può aiutarti a migliorare la situazione per le quali stai facendo la lettura. La mente e le preoccupazioni non fanno altro che attrarre energie dello stesso tipo. Perciò eleva i tuoi pensieri con l'aiuto degli angeli per attrarre ciò che desideri. Diverse volte al giorno prenditi del tempo per immaginare che la situazione sia già guarita e perfettamente manifestata. A livello spirituale ciò che desideri esiste già. Perciò cominci a provare gratitudine, giusto preludio per trasformare il tuo desiderio in realtà. Ulteriori significati di questa carta sono Pensa ai tuoi desideri ed evita di preoccuparti o di lamentarti. Elevati al livello del tipo di persona che vorresti attrarre. Man mano che le tue energie spirituali aumentano, sarai sempre meno attratto dalle energie inferiori nelle situazioni e nelle relazioni interpersonali. E' normale che accada e gli angeli possono aiutarti ad affrontare ogni fase del processo. Questo è il messaggio per augurarvi una serena giornata.